Grande intervento del difensore Fernando Torres Che rigore, è attenzione, occasione dunque per il vantaggio Calcio di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spanti voleva Decisione che mi trovo d'accordo Pier, giusto sanzionare il fallo con il penalty Ma non mi è sembrato un intervento da giallo Rigore trasformato con freddezza Grazie